Per consentire operazioni straordinarie tutti i martedì dal 1 ottobre 2014 al 30 aprile 2015, il cimitero non sarà aperto al pubblico tutti i martedì? Sì, questo lo prevede il regolamento di polizia mortuaria nazionale il 285, nel periodo invernale affardata dal 1 ottobre al 30 aprile è consentito la movimentazione dei feriti all'interno del cimitero, i familiari che hanno acquistato i loculi nuovi nel nuovo cimitero o nelle società trasferiscono i loro cari dalla sepoltura attuale alla nuova. Per cui sono operazioni che vanno fatte obbligatoriamente al cimitero chiuso perché come ben si può capire non è possibile farlo con il cimitero aperto e far vedere a tutti quello che accade. C'è un'ordinanza del sindaco che dice di chiudere il cimitero durante questa fase di lavori, quindi resterà chiuso dalla mattina alle 7, penso fino alle 11 perché ne facciamo giornalmente 7-8 ogni martedì, quindi dalle 7 del mattino fino alle 11.30 o mezzogiorno resterà chiuso. Ricordiamo i giorni in cui è possibile accedere al cimitero e le modalità anche in auto. Abbiamo deciso di dare la possibilità, considerato che il nostro cimitero presenta dei disagi per poterlo percorrere a piedi, abbiamo dato la possibilità il lunedì e il giovedì di lasciarlo aperto dalle 7 alle 14 ai diversamente abili. Possono entrare come e quando credono. Dalle 14 in poi è aperto a tutti i cittadini. Per la commemorazione dei defundi stiamo sistemando la via a Angeli a partire dal Civico 4, puliamo gli alberi, sistemeremo la base come ogni anno con dei ciclamini, con dei fiori. All'interno facciamo una pulizia con poco personale, con l'aiuto della Caltambiente, si fa una pulizia straordinaria. Ripeteremo anche quest'anno per il terzo anno consecutivo un'apertura a decorrere dal 28 martedì, mi sembra che sia, sino al 30. Lo lasceremo aperto per l'intera giornata con le macchine, in maniera tale che ognuno può pulire la propria tomba, fare ciò che si rende necessario per questa commemorazione, senza dover chiedere di poter entrare, compagnia varia.